Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Qui c'era un pozzo, un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù Dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo, da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete Ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua Vedo, gli replica la donna, vedo che tu sei un profeta I nostri padri hanno adorato su questo monte Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare Gesù le dice Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre Voi adorate ciò che non conoscete Noi adoriamo ciò che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità Gli rispose la donna So che deve venire il Messia, chiamato Cristo Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa Le dice Gesù Sono io che parlo con te Molti samaritani di quella città credettero in lui E quando giunsero da lui Lo pregavano di rimanere da loro Ed egli rimase là due giorni Molti di più credettero per la sua parola E alla donna dicevano Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo Ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo Che questi è veramente il Salvatore del mondo Vangelo stupendo Ricchissimo di temi E come aprire un contenitore E quello che c'è dentro Dentro, tracima Tracima Però dovremo scegliere un tema in particolare Intanto, prima cosa Tracima ambientazione Troviamo Gesù seduto su un muretto Quello che ha da dire è di grande importanza Ma non si mette su una cattedra In quel momento Gesù non va su un pulpito Ma si intrattiene con questa donna samaritana E sembra proprio che sia un posto solo per due Lui e lei Benché solitamente sappiamo Il pozzo è un luogo di incontri Il luogo dove si fanno i contratti Le chiacchiere perfino No Loro due soli Una tu per tu È questo che rende questa pagina di Vangelo Più bella ancora Guardiamo Gesù Gesù è verso mezzogiorno È stanco A sete A fame I discepoli sono andati sul monte A fare acquisti E si concede nella sua Come dire Vulnerabilità Però nella verità Vulnerabilità E verità È nell'atteggiamento di chi domanda Chiede Ma lo sappiamo Lo vedremo nel seguito della nostra meditazione Chiede per dare Dall'altra parte Vediamo una donna È una donna vivace Che interloquisce Che risponde a Gesù Orgogliosa anche della sua appartenenza Lei sa bene Che Gesù appartiene Alla tradizione giudaica Mentre lei è samaritana Però è fiera Della sua appartenenza Ma soprattutto Quella donna Tace un particolare Non secondario E cioè Il suo fallimento Affettivo E in qualche modo Anche sociale E allora Sposta Il discorso Sulla questione Del culto Una questione Che per Gesù È assolutamente Secondaria Però Gesù È abilissimo Perché poi La fa parlare La fa parlare E Gesù Valorizza Il non detto Dicevo che è un testo Stupendo Ma anche molto ricco Quindi bisognerebbe Non disperdersi Nei numerosi dettagli Ma andare proprio Al punto centrale Ed è Quello che Gesù dice Ma tu lo sai Chi è colui Che ti chiede da bere? Quindi Questo incontro Ha come focus Come centro L'autorivelazione Di Gesù Gesù Rivela La sua stessa identità E c'è Un cammino Ancora una volta Si direbbe Il moto contrario Famoso Nella musica Da una parte Pian piano Il riconoscimento Del chi è Gesù E dall'altra parte Il cammino Della donna Samaritana E' bellissimo Vedere come i due Movimenti Partendo Da quell'incontro Poi si evolvono Autonomamente Ecco Innanzitutto Ci focalizziamo Su Gesù Che dice Io sono L'acqua viva Ogni tuo desiderio Se tu scegli me Sarà compiuto E' bellissimo Vedere come Gesù Anche sorpassa Storici Steccati Lo steccato Del sesso Per esempio Gesù E' un uomo La samaritana E' una donna E Secondo Il Galateo Giudaico Un uomo Non doveva Parlare In pubblico Con una donna Neppure Pensate Se era sua moglie Poi lo steccato Di razza Tra i samaritani E i giudei Lo sappiamo tutti C'era una diversità Anche Etnica Perché i samaritani Sono una popolazione Meticcia Quel resto Che era In Samaria Dopo la deportazione Che si è unito Ai coloni Venuti dalla Mesopotamia E' nato Questo popolo Meticcio Samaritani Erano malvisti Dai giudei Viceversa I samaritani Non vedevano bene I giudei Ma poi c'è un'altra Un altro steccato Che Gesù Supera Lo steccato Poi Della religione I samaritani Hanno Un canone Dei libri sacri Diverso Rispetto a quello Della tradizione giudaica Non solo Ma in un tempio Alternativo Ma anche C'è un altro steccato Che è quello Diciamo così Giuridico Pensate che Un giudeo Aveva la proibizione Di mangiare cibi Provenienti Dai samaritani Dicevano che E' peggio Che mangiare Carne di maiale Vediamo invece Come attraverso Il dialogo Della samaritana Con Gesù E di Gesù Con la samaritana C'è una progressiva Rivelazione Di Gesù All'inizio Diciamo Il primo scalino Gesù E' un giudeo Poi La donna dirà So che deve venire Il Messia Sei forse tu Implicitamente Poi dirà Ma forse Tu sei un profeta Perché hai letto La mia storia E poi arriverà Gesù a dirle Che lui rivela Il padre E infine Il quadro Si completa Con la proclamazione Di Gesù Salvatore del mondo E' bello vedere Questo Cammino di fede Graduale E questo ci dà Anche tanto conforto Perché la nostra fede Cresce E' vero Noi Fin da bambini Proclamiamo Integralmente Il credo Lo pronunciamo A messa Però Altra cosa E' quando la nostra fede Viene sottoposta Alla prova Passare degli anni Le difficoltà Che incontriamo Le scoperte Che facciamo I distacchi Che segnano Profondamente La nostra vita E allora Certe parole Acquistano Un peso Più profondo Ecco Il cammino Di fede Ed è un cammino Che dobbiamo fare Perché Ripeto Su quella Su quel muretto C'è un posto Per due D'accordo E' vero Che crediamo Tutti insieme Che ci aiutiamo Che uno Tira la fede Dell'altro Uno edifica L'altro Però L'incontro E' sempre A tu per tu Con il Signore Tra l'altro Non vorrei Che parlando Di incontro Col Signore Qualcuno Pensasse Qualche cosa Di eclatante Di straordinario Di strabiliante Sì C'è qualche santo Pensate San Paolo Che cade Per terra Travolto Dalla grazia Di Cristo Che gli parla Lo trafigge Ma normalmente Gli incontri Con Gesù Sono incontri Attraverso persone Magari Attraverso Una lettura Perfino Attraverso Un film Perché no Ed è una cosa Che cresce Piano piano Nel cuore Qual è il segno Il segno Che è accaduto L'incontro Molto spesso È Un senso Di desiderio Appagato Di contentezza Di essere Del Signore Gesù Mi piacerebbe Fare ancora Qualche Sottolineatura Per esempio È interessante Vedere Come la donna Samaritana Sposta L'argomentazione Non va In profondità Perché scivola via Sulla questione Relativa Se vogliamo La questione Del culto Dobbiamo adorare Sul monte Garizim O sul monte Sion A Gerusalemme Ce lo dirà Il profeta Che verrà Dice la donna Ma Gesù Dice Guarda Viene il tempo In cui Gli adoratori Veri Gli adoratori Autentici Di Dio Sono gli adoratori In spirito E verità Che cosa Intende dire Gesù Chi va al tempio Allora non è Autentico No Non intendeva Dire questo Gesù Intendeva dire Io Sono il nuovo Tempio Noi diciamo Oggi Nel linguaggio Teologico Cristo Sacramento Dell'incontro Con Dio Perché Perché nella sua persona Si realizza Quella unità Di Dio Con noi Con noi Esseri umani Con la natura umana E Sempre in Gesù La natura umana Sposa Per così dire La natura divina Gesù Sacramento Dell'incontro Con Dio E anche quando Facciamo fatica A immaginare Dio Non sappiamo Come relazionarci Con Lui Non preoccupatevi Guardate Gesù Guardate Gesù La sua umanità È la strada Per arrivare a Dio E poi vorrei anche Concludere Con un Questa volta Con un altro Particolare Gesù Vedendo La gente Della Samaria Che scende Verso il pozzo Con che sguardo Gesù Abbraccia Quella gente Che scende Dalla montagna Per incontrarlo La paragona A una messe Che biondeggia Pensate In quel territorio Impossibile Impossible E invece C'è questa conversione In massa E Gesù Dirà Una parola Di incoraggiamento Ai discepoli Promettendo loro Che la sua parola Sarà Una Una semente Che porterà Tanto frutto Allora con questa immagine Voglio Salutarvi E Dire Ecco Che il quadro Si chiude Con una grande gioia Ciao Buona settimana Buona settimana Buona settimana Buona settimana